Il sindaco di Taurianova, Roy Biasi, ha incontrato a Catanzaro la vicepresidente della giunta regionale Giussi Princi in vista della partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino su invito della Regione. Nell'incontro, cui rappresenta anche l'assessore alla cultura Maria Fedele, gli amministratori della città, designata come capitale italiana del Libro per il 2024, hanno riscontrato con favore le indicazioni e suggerimenti proposti per l'ottimale presenza nello stand della Regione Calabria, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione alla giornata di sabato 11 maggio e il possibile coinvolgimento delle scuole cittadine e hanno rinnovato la soddisfazione già espressa dal primo cittadino al presidente Roberto Chiuto per l'assoluta aderenza tra gli intendimenti pratici e simbolici della Regione e quelli del Comune. Sia Biasi e Fedele che Princi hanno convenuto sulla necessità che l'assoluta rilevanza che la Regione sta dando alla sua partecipazione alla prestigiosa Kermesse dimostrata dalla occupazione di un'area di ben 200 metri. Venga esaltata grazie al rilevo nazionale che la cittadina della Piana di Gioia Tauro ha ottenuto a seguito di un progetto culturale improntato alla voglia di riscatto. Da considerare tra i segni più emblematici di quella emozioni e poesia, esplora l'incanto della Calabria che la Regione proporrà con tema centrale a Torino dal 9 al 13 maggio. Ha sostenuto Biasi, vogliamo fare in modo che l'anno di Tauria Nuova Capitale produca frutti che vadano al di là del tempo. Penso ad esempio alla strutturazione definitiva di quella vocazione ricettiva che nel campo dell'arte e della cultura la città ha già tratteggiato in questi anni. Grazie. 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 Grazie.